Grazie a tutti. Il professor Vittorio Marchis, che è storico dell'ingegneria, professore ordinario di storia della scienza e della tecnica presso il Politecnico di Torino, nonché un divulgatore molto simpatico, perché ci fa intravedere le cose difficili in modo facile. A lui si deve anche il museo virtuale del Politecnico di Torino, che è stata una delle prime esperienze in un museo virtuale. Spesso in televisione, io lo sento solo in radio, in televisione non l'ho mai visto, però in radio l'ho sentito tanto. E sicuramente è anche un autore teatrale, uno non se lo aspetterebbe, ma è un autore teatrale perché lui fa delle autopsie. C'è degli oggetti molto complessi, come possono essere una fotocopia che dice, e in diretta si monta spiegandoci i vari funzionamenti. E quindi è una persona veramente particolare anche nell'approccio, diciamo, con la tecnologia. Perché io sono qui? Perché io, in archivio centrale dello Stato, mi interesso dei brevetti e quindi gestisco quasi due chilometri e mezzo a tre di brevetti, ho un novecento filato a Scicoli e ho conosciuto il professor Marchis proprio attraverso ricerche fatte dal professore in questo fondo. Poi è stato lui che ci ha aiutato, come titolo centrale dello Stato, a avere dei finanziamenti più di me per una digitalizzazione della sede Marchis. Il bello di questo libro, secondo me, è che anche i quotidiani che noi facciamo, aprire una porta, accendere una luce, mettere qualcosa nel forno o, che so io, toccare un giocattolo, il professor Marchis ce lo fa vedere come è successo che quell'oggetto sia stato inventato da chi, come e per chi. Quindi noi ci sentiamo come dei curiosi, riusciamo a curiosare nelle cose attraverso di lui. Questo libro a me fa un effetto abbastanza così importante perché naturalmente per me sono come tanti fascicoli l'un di tutto dall'altro, ma rileggerli in una maniera secundiziale e conseguenziale è completamente diverso. Infatti secondo me il professor Marchis che cosa fa? Mi scena, secondo me, scienza, fantasia, gioco, rigore e scopre quello che c'è dentro a queste cose. Io devo dire una cosa, parlerei di questo libro passando dalla, cominciando dalla fine, proprio nell'ultimo, in una delle ultime pagine, c'è qualcosa che ci spiega forse come leggere il libro. Il professore dice, telefoni, biciclette, gigadischi e robot da cucina, macchine da caffè e apparecchi radio non sono soltanto prodotti delle tecnologie che si rinnovano, ma veri e propri scritti dove si nascondono le storie più strane, a cui fanno eco, poesie e brevetti, canzoni pop e citazioni letterali, sport digitali, trader, cinematografici. Infatti in questo libro questa commissione con la spiegazione scientifica e anche il brano letterario qui sono riportati i brani di Edoardo De Filippo, di Belli, di Eco, di Calvino quindi abbiamo modo di vedere quello che anche queste persone hanno, questi oggetti hanno suscitato in queste persone. Io non vi posso parlare di tutti, anche perché poi chiederete a lui che cosa, perché ha fatto questa scelta, devo chiedere a lui, ma affascinata le chiavi, le chiavi hanno tutta una storia difficile e molto faticosa, anche da interpretare, lampadine anche sono un po' difficili, però oggi che noi pensiamo a questa evoluzione delle reti che ci sembra la cosa di domani, di cui anche il professore Pari, il professor Marchis parla, effettivamente capiamo quanta fatica dall'Ottocento ai giorni nostri un oggetto così che sembra normale ha dentro di sé. I contatori, per esempio, un'altra cosa interessantissima, anche perché il contatore è diverso a secondo di quello che si conta, si conta il gas, si conta la luce, o si conta gli uffici metrici e gli ufficiali metrici che dovevano stabilire, per esempio, per esempio, quanto si dovesse pagare per una forza di cavalli, ma per una forza del, diciamo, degli nomi, eccetera, eccetera, avevano fatto tutto un ragionamento, però effettivamente sono tutti macchinari che poi, con lo stesso concetto, ma molto modernizzati, vengono usati i pictologi. Io, come ex ragion, signorina di buona famiglia, sono stata affascinata anche dal Vini, che è un robot che veniva portato in dote dalle signorine degli anni settanta che si è accorrendo. E pensare che dal settanta oggi continua, per certi aspetti, ad essere uno stato single, perché in effetti costa, oggi mi pare, quasi duemila euro. Sì, è una bella sferla di soldi, è una bella sferla di soldi. Ci sono adesso le banche che ne fanno un'offerta speciale, con microcredito per le famiglie. Siamo arrivati a questo punto. Il bimbi è adesso. È una specie di robot da cucina, frullatore, però con un vantaggio che scalda anche. Allora, il frullatore di solito, il frullatore di solito, uno mette le banane, fa il frampè, mette le carote, fa il passato di verdura, mette la carne, fa l'omogenizzato, ma non scalda e non cuoce le cose. L'ha trovata, allora, a suo tempo, del bimbi è stata quella di mettergli dentro qualcosa che potesse permettere la cottura. E quindi uno mette di tutto e si fa la minestra di verdura, non solo tutto il resto. Prego. Mettete delle patate, del latte, del sale e del paligiano e un'otticatura. Mettetelo temporizzato. E vedrete che quando tornate a casa potete trovare. Potete trovare tanto. È stata una cosa regna. Cioè non avrei mai pensato, non questa, di trovarlo, veramente. Perché mi aspettavo cose più... Forse, non so, mentre mi aspettavo l'aspirapolvere, mi aspettavo altri lettori domestici. E il bimbi mi sembrava una cosa un po'... Forse, perché i denti sono più, più antichi. Più antichi, ma bello. Sì, è il moderno, ma è vero. C'è anche una nuova edizione, diciamo. Il moderno è anche molto più bello. Non c'è stata... Non c'è stata la mamma del terreno, dove ci fermiamo... Sì, sì, c'è anche chi c'è lei, c'è anche chi è lui, c'è anche tutto questo. Però questo, questo l'acqua è stato rimasto. Questa voglia segnalata, non c'è anche più caducinato. Prendi in esame questo libro, anche le macchine vanno uscite. Ecco, io devo dire anche una cosa interessantissima, ne fa la storia. La parola elettrodomestico, c'è stata una ricerca sui brevetti che conserviamo, era un... Naturalmente non era un sostantivo, era un argento. Oggetto elettrodomestico, macchina elettrodomestica. Ma diventato nel 1928, in questa serie di brevetti italiani, quindi portarsi dietro in altre parti, ma diciamo codificato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di allora, diventa sostanziato. E quindi nel 1928, è la prima volta che nei brevetti si parla di elettrodomestico. in inglese non c'è la parola elettrodomestica, c'è home appliance. aiuto casalindro, ecco. Sistema... e in questo si impone anche l'accento su un altro aspetto. Sì, vabbè, sappiamo con italiani che abbiamo un design fantastico, ma le macchine da cucire hanno avuto dei grandi disegnatori, perché c'è stato Gioconti, Zanusso, Mangarotti, ma anche altri. E se venite a vedere questi brevetti italiani della Neki, delle altre margoletti, sono caratteristiche, bellissime. Tant'è vero che poi negli anni 50-60 siamo stati i più grandi sfruttatori, non per la tecnologia, come diranno i sormatti, sino per la forma. e poi questi elettromestici che diventavano bianchi in quella cucina, padroni scuri, diciamo, di radio, televisione e contatto. Per esempio, una cosa interessante, perché lasciamo perdere la lavatrice di cui tu ci dà più a lui, perché è complessa, ma invece la lavatrice è complessa, anche se bisogna dire che la lavatrice si è modificata e ce lo possiamo ricordare noi, loro, no, erano già due vaschette, quando erano più piccoli, uno per lavare e uno per stanzare. Quindi erano due... C'era il manga, no? C'erano due... No, erano già elettri. Erano già elettri, ma le trecce sono ancora più belle. Tu vai a più belle. Ricordo, invece, ci sono proprio due cestetti separati. Un'altra cosa interessante è anche il fatto che in questo libro viene messo in relazione non solo l'oggetto, ma come è... quali industrie e perché certi oggetti elettrici o non elettrici hanno avuto fortuna nel tempo. E ovviamente ricontestualizza, cosa che è abbastanza difficile, perché per noi è una cosa normale, siamo certi di quello che abbiamo e non ci rendiamo conto dell'evoluzione. invece qui capire che certi bisogni ci sono stati in certi momenti, certe fortuna ci sono state su certe tecnologie soltanto in altri e per esempio quello si parlava qui della radio e mi è piaciuto moltissimo questo fatto che tu abbia messo in evidenza che la prima annunciatrice si chiamava Iris Donarelli e non come si è sempre detto è un'altra persona perché il mito delle persone si fa anche sulla leggenda invece lui restituisce alla signora Donarelli quella la prima annunciatrice il 6 ottobre 1924 e basta eroina sconosciuta eroina sconosciuta non aveva tante eroina sconosciuta poi un'altra cosa che ho notato oltre il fatto che se voi sfogliate il libro vedrete oltre che ci sono tante evidenziate pure tante immagini evidenziate ci sono delle immagini bellissime proprio di oggetti che diventano quasi oggetti d'arte forse sarà una mia deformazione poi anche non lo so anche il fatto dei giocattoli qui è stato molto bravo il professor Martis perché ha parlato anche in cambole non solo di meccano io qui mi aspettavo solo forse invece è stato molto attento molto molto cortese con le bambine anche un'altra cosa che vorrei dire un po' concludendo che si fa una una sorta di conclude in questo libro ponendo il problema che siamo in un periodo di transizione che sicuramente andiamo verso un minore bisogno di cose anche se noi ancora siamo una generazione che compra i libri che non si attenziona troppo alla lettura informatica delle cose eccetera eccetera però è vero che oggi noi dobbiamo viaggiare dobbiamo muoverci quindi abbiamo bisogno di un massimo di tecnologie e poche cose da seguire forse questa sarà la vostra generazione per noi che dobbiamo sia troppo tardi ormai viaggiamo con i libri anche noi quindi per fare un po' interessante perché una casa come sono cose che poi è un po' quello che noi vediamo sui giornali la casa mitica che poi non è mai così perché noi dopo una settimana è sempre pieno di cose e lui dice tutte queste cose ci rendiamo conto di tutte queste cose soltanto nel momento di trasloco che è una cosa che mi ha fatto molto pensare perché è vero è vero perché noi conserviamo anche cose che ormai sono un po' descuette per affezione il primo frullatore il secondo frullatore la vecchia radio la nuova radio eccetera però fanno parte della nostra vita e secondo me qui lui vorrebbe essere molto tecnologico e vorrebbe spiegarci le cose però ha un difetto questo ci affezioniamo ancora di più alle cose che abbiamo e nel peggio grazie ma io adesso innanzitutto Margherita ti ringrazio per il per la presentazione che ha fatto saltar fuori delle cose che certamente sono nascoste nel libro ma che hai saputo tirare fuori con assoluta curiosità e assoluta simpatia due cose vorrei soltanto aggiungere per forse spiegare meglio a chi non mi conosce poi ho accennato prima questa mia attività che ormai è più che decennale di autopsie di macchine in realtà le autopsie di macchine adesso qui faccio una specie di scusa spero di non avermi vergognato ma su internet sì sì ma su internet certo ma su internet va bene va bene va bene va bene ma su internet va bene va bene ma già che picca mi comunico che domani mattina se voi lo volete sapere io sono anche qui per questi motivi da altre varie cose quando io giro un po' cerco di unire le varie attività anche per ottimizzare i suoi tempi inevitabilmente venendo da Torino non è poi così semplice venire qui a fare una presentazione domani di nuovo riscaldare domani al tv 2000 io farò l'auto in diretta domani mattina alle 7 e mezza del mattino però poi sarà replicata se volete io farò in modo anche questo di mettermi niente un po' di meno che diceva qualcuno ai tempi che furono una cosa che non ho mai fatto e che mi sta preoccupando a quanto perché mi hanno detto che hanno già trovato il cosiddetto quello che io chiamo il cadavere la sua realtà di un forno a microonde il forno a microonde è un oggetto che secondo me è uno dei tanti oggetti misteriosi che stanno in casa in una casa nostra e che mai nessuno ha aperto neppure su youtube si vede nessuno che sta aprendo un forno a microonde non è poi così facile trovare dei coni microonde ormai che hanno sono passati a miglior vita e che quindi possono essere ai sensi di ogni comitato dei garanti per la bioetica la tecnoetica eccetera eccetera essere poi aperto e dissezionato in pubblico però queste dissezioni così come il libro che in parte nasce da questa mia esperienza adesso poi vi racconto perché comincia in me questa volontà di aprirmi a un pubblico che può essere il più eterogeneo possibile dei colleghi universitari della facoltà di filosofia fino ai bambini di una prima elementare e più delle volte queste cose queste mie presentazioni si fanno in contemporanea quindi riesco una cosa che mi dà abbastanza soddisfazione a lanciare un messaggio che contemporaneamente è recepito sia da un dotto settantenne a un bambino che ancora forse non sa neppure leggere le scritte ecco in realtà tutto viene dal fatto che io quando vedo la macchina la mia formazione è una formazione sì classica ma poi ho fatto studi di ingegneria sono stato professore per tantissimi anni di materie pallosissime di ingegneria meccanica insegnando a Torino e a Catania e poi adesso ormai da non so più quanto ma almeno 15 anni insegno solo storia che ho cambiato il mio cappello in realtà la cosa importante è capire che dentro qualsiasi oggetto non c'è soltanto la tecnica l'oggetto tecnico il più tecnologico possibile forse anche uno smartphone dentro non ha soltanto la tecnica ma c'ha tutto il contesto che lo porta a convivere con noi e quindi quando io lo apro e cerco di vedere cosa ci sta dentro io in più delle volte voglio cercare le storie che stanno dentro alle cose c'è un libro bello di cui vi consiglio la lettura per ogni tanto un po' di pubblicità anche libresca bisogna farla che è stato di Gottschall pubblicato in traduzione italiana da Bollati Moringhieri L'istinto di narrare che è molto bello mi piace di più il titolo americano che è The Storytelling Animal l'animale con tastoni è più bello perché fa vedere l'animalisticità se così si può dire il fatto di essere animali che ci distinguiamo da tutte le altre specie viventi non per la tecnica perché invece e questa è la grande genialità di questo scritto la specie umana non si differenzia per saper usare gli utensili i tools gli strumenti perché questo lo fanno anche i castori lo fanno anche le cicogne che costruiscono dei vidi stupendi lo fanno anche tantissimi animali che sanno che cos'è la tecnica in realtà però non ci risulta che nessuno e questo è all'inizio che nessuna altra specie vivente ami raccontarci sì le storie e del resto la sopravvivenza dell'homo sapiens rispetto all'homo di Neandertal che mi dicono io non sono un antropologo di quelli tosti e duri che sanno la storia vera di come ci siamo evoluti Neandertal si è estinto proprio perché era troppo tecnico pensava troppo all'aspetto tecnico mentre sono sopravvissuti quei ceppi diciamo che venivano dal Centrafrica che una volta che avevano fatto il necessario si sedevano attorno al fuoco e si raccontavano le storie perché la dimensione del racconto è una dimensione salvifica nella sopravvivenza della specie umana ecco in questo senso mi piace raccontare le storie e non spiegare come funzionano le cose sì qualcosa bisogna anche spiegare è chiaro bisogna anche capire perché uno cliccando un interruttore fa accenderlo alla luce o piuttosto che non deve stare a mettere le dita dentro il famoso bimbi se no se ne fa un frullato di dita umane però anche se le norme di sicurezza evitano quasi completamente questi guai però in realtà è importante questo è importante capire che noi viviamo con la tecnica viviamo sempre di più assieme alla innovazione tecnologica ma che questa ci coinvolge non soltanto sul piano tecnico e quando si rompe un oggetto non è che si sia rotto e quindi la dobbiamo portare all'assistenza punto e basta ma in realtà si è rotto qualcosa di noi si è rotto qualcosa che convive con noi con cui abbiamo avuto comunanza di azioni e certe volte ci fa anche arrabbiarci bisogna essere romantici bisogna essere romantici da questo punto di vista una delle mie prime autopsie di macchine l'ho fatta e questo quando la conclusione si potrebbe raccontare tante storie poi ricordatemi che devo parlare nelle figure una volta facevo delle descrizioni di una macchina strana che per me è una macchina molto comune almeno per me non per i bambini delle elementari che è la macchina da scrivere la macchina da scrivere già una decina anni fa presentata anche la prima elementare viene vista come un oggetto misterioso nessuno di una scuola elementare di Torino aveva mai visto una macchina su 24 bambini mai visto la macchina da scrivere quando glielo ho fatta vedere io ne ho cominciato a mettere l'indita sotto e hanno cominciato a dire ma questa non funziona e dico ma come non funziona funziona benissimo basta soltanto picchiare un po' più forte allora quando gli ho dato l'ok per poter sbattere le dita in una maniera più violenta si è scatenata la gioia più totale per avere questa interazione anche fisica perché noi siamo troppo abituati a gestire la nostra conoscenza soltanto con i sensi distali con la vista e con l'udito mentre ci dimentichiamo che abbiamo anche un naso una lingua e soprattutto delle mani e questo è importante a un certo punto in quella classe c'era un bambino d'auli il quale mi dice è bella e io dico certo che è bella se no cosa va da rappresentare delle cose volute a voi dico perché è bella è bella per due cose allora a questo punto la maestra di supporto mi è subito si è rigidita mi guarda e mi dice ma stai zitto stai buona aveva paura dico no non vuoi stia zitta lei gli dico stia buona che adesso voglio sapere perché è bella e questo bambino mi disse con un po' di incertezza ce l'ho tirata fuori abbastanza con le tenaglie e le cose per due cose e dico dimmi queste due cose la prima cosa mi disse è bella perché non c'ha la spina e questo è bello perché adesso io voglio fare la dietrologia del professor universitario che vuole scrivere adesso il trattato di psicologia infantile di psicologia della conoscenza di scienze cognitive potrei scrivere un trattato di 200 pagine però è bello qualcosa può essere bello secondo me anche per non avere qualcosa non per avere qualcosa quindi questo è di nuovo un aspetto fondamentale e poi uno lo può capire perché in realtà probabilmente a casa di questo bambino gli ho detto tu gli oggetti con la spina non li tocchi questa è la mia aspirazione razionale benvenuta quell'altra è un'aspirazione molto più poetica molto più direbbe la collega romantica ma fu sempre secondo me molto più piccata e gli dico ma è la seconda cosa lui mi guarda e non riuscivo a farne la dire adesso tu mi hai detto due cose c'erano tutti gli altri con i bambini della scuola alimentare zitti la maestra era maestra del supporto zittite da me lei stia zitta nessuno aveva mai sentito che qualcuno dicesse la maestra stai zitta per cui era una cosa terribile e mi dice mi guarda e dice c'ha dentro la stampante allora e questo è di nuovo bellissimo è un sistema che non ha bisogno che questa volta era positivo il fatto uno per non avere è cervello per non avere è cervello per avere quindi proprio il duale sembrava fatto da un filosofo e poteva farlo un grande filosofo questa considerazione però però il dire c'ha dentro la stampante significa guarda non ho bisogno di avere sempre il cavo e con il cavo la connessione con il siano ci metto il filo fuori lo scrivo e lo scrivo ecco da questo momento ho capito che si dovevano raccontare delle storie raccontare delle storie cercando di vedere che cosa rimaneva dentro poi è chiaro che da quella macchina da scrivere sono fatte tante altre citazioni siamo tra libri vi consiglio manganelli improvvisi per macchina da scrivere dove c'è quel famoso pezzo sulla nascita della macchina da scrivere dai col dubbio amoroso tra un cembalo scrivano e una migliatrice giocattolo quindi sono quelle citazioni che fanno piacere molto ai letterari però ecco in questo senso secondo me bisogna abituarci a far correre la fantasia intorno alle cose così come far correre la fantasia adesso non voglio scompongere nessuno perché l'ho già fatto troppe volte però capita e capita purtroppo spesso che quando io vado invece di fronte ai miei colleghi di lettere che parlando di macchine dico certamente un libro fondamentale anche per vedere i confini tra letteratura tecnica e narrazione è la chiave a stella di Primo Levi guardo il pubblico e dico ma voi sapete che cos'è una chiave a stella? il terrore totale vi garantisco che tra i miei colleghi ordinari di letteratura italiana ho gettato una volta assolutamente il terrore perché quando una collega di cui ovviamente non faccio un nome alzato non male dico sì quella specie di cacciavite con la croce sopra dico non è vero lei non ha capito niente e aveva scritto un saggio di 300 pagine sulla chiave a stella di Primo Levi io dico ma scusate non sto parlando di una frase citata a pagina 325 che può essere sfuggita ma è il centro di un romanzo il titolo e allora dopo che ho detto questa cosa qui vedevo questi grandi professori nascondersi dietro i propri fogli non ho fatto il cattivo e andando avanti ecco l'ultima cosa che volevo dire che poi non è il caso di trattenere troppo il pubblico perché qualche domanda c'è sottopongo a voi quest'altro discorso parallelo che è fatto da queste pagine aperte questi incipit del libro che introducono ogni nuova macchina o un nuovo oggetto sono dei collage che ha fatto questa designer che è l'otta vuole che si chiami soltanto con il nome di White Design di Milano che si è appassionata del libro proprio perché è bene far vedere che anche da un punto di vista grafico ci deve essere una una narrazione uno scatenamento della fantasia ecco vi consiglio guardate questo signore qua qui siamo in fronte la spina povera questo signore si mette le mani nella testa non si capisce bene perché che cosa mai sia successo anche queste sono storie sono storie che io ho cercato di suggerire che secondo me sono state anche egregiamente interpretate come commento del libro che deve essere tenuto in conto poi di qui dentro si parla un po' di tutto si parla sì della lavatrice ma anche dello sciacquone e anche di tanti di tanti tanti altri oggetti l'importante è che uno sfogliandoli faccia scatenare la propria fantasia questo secondo me è lo scopo fondamentale per il resto se volete farle domande fatele scatenare anche i ricordi certo che si scatenare anche i ricordi prima parlavo della macchina io sarei a volte per rispondere della lettera di scrittura ma sulla macchina da scrivere se voi avete occasione di andare a cercare su youtube ci sono dei pezzi bellissimi di un film di Mario Soldati con Renato Roche e Carla Gravina come attore che si chiama Policarpo dei Taffetti ufficiale di scrittura il quale dimostra ancora una volta che la tecnologia e non soltanto la tecnologia quella dei bianchi che determinano negli anni 50-60 la liberazione della casalinga che si può emancipare dall'andare a portare al lavatoio i panni da lavare eccetera eccetera perché all'inizio del novecento quando la macchina da scrivere arriva nei ministeri e proprio la macchina da scrivere a sconvolgere il comparto degli impiegati ministeriali che prima erano uomini ufficiali di scrittura che scrivevano in bella calligrafia i testi che i funzionari scrivevano a zampe di gallina mentre Don introduzionava a scrivere proprio per la maggiore facilità per le dita femminili ad agire sulla tastiera della macchina a scrivere sono nel giro di pochissimo tempo scomparsi soprattutto in queste città dove c'erano i ministeri tutte le categorie dei ufficiali di scrittura dei famosi calligrafi per lasciare lo spazio alle datilomio che hanno e c'erano grandi scuole molte scuole di datilomio e in questo senso la tecnica da sempre e da sempre è da sempre un po' tenere presente non deve essere solo demonizzata come avvolutente alienante eccetera eccetera già al tempo dei romani primo secolo dopo Cristo antipato di tessalonica cantava nell'antologia palatina se vogliamo fare poi i dotti del fatto che Demetra e le ninfe avevano insegnato alle donne l'uso della ruota da mulino che le rendeva libere dalla macina cioè la macina quella che si doveva andare avanti indietro come si fa ancora in molti paesi del centroafrica per macinare i cereali poi c'è stata la macchina la macchina aspira ma prima c'era stata la macchina da cucire che è il primo meccano domestico non si può chiamare elettrodomestico ma non era elettrica che ha in realtà creato nuove categorie nuove professionalità quindi non lamentiamoci troppo della tecnologia l'unica cosa è continuare a mantenere quella attenzione senza demandare troppo a realtà esterne quello che in realtà deve essere anche parte di noi stessi non abbiamo paura di capire come funziona i bimbi piuttosto che non un aspiraporto poi così adesso se ce la chiede qualcuno no tanto mi volevo io ho affrontato la pioggia il motorino il freddo per dire sentire lei perché nella presentazione di questa sua conferenza io faccio l'artigletto è anche il design e quindi mi incuriosiva molto perché lei ci sta raccontando e prima di venire qua sono passato per riparare l'anespresso rotta 48 euro e però non ho avuto nessun rivido di piacere mi hanno fatto dei pezzi che hanno sostituito non ho detto se ripenga ho pagato i miei 48 euro e quando io insegno in una scuola di design ai ragazzi faccio vedere le cose e io dico a me interessano i visizionari le cose di cui capisco e faccio l'esempio è un guido proiettore che adesso sta fatta qualche parte nascosto e una proiettore diapositive con la lanterna magica che io avevo avuto con il regalo dalle in cui c'è la luce e proietta sullo specchio lo specchio di balda l'immagine attraverso il medrino e io capisco che l'immagine in grandita arriva attraverso questo procedimento meccanico intuibile devi sezionare con la possibilità le macchine non credo che io ne avevo un pericolo sensuale erotico perché non riesco a capire cosa c'è dentro queste macchine di steluzione se c'è dentro le forme di borde io non lo so perché non ce l'ho a scarsa perché non l'ha mai visto la mia autopsia perché mi ha fatto le cose io vorrei assistere a una sorta di sempre uccitare allora guardi capire dove è il piacere nel disizionare allora io le posso dire che lei mi facesse un'autopsia su un meccano che io riesco a capire ma lei posso dire questo per cui ho l'esperienza che mi sono in giustiato segnato però io vorrei assistere l'altra allora ben volentieri io invicchiamo qui in causa la dottoressa Martelli perché trovi l'occasione perché possiamo farla in tempi molto recenti io le posso vedere i fatti posso fare ho anche conoscenze allora se lei mi lascia se lei mi lascia una un'email o un indirizzo adesso io le posso già inviare delle indicazioni su che cosa c'è e che cosa non c'è cosa è stato fatto cosa non è stato fatto poi se mi da anche eccezionalmente io le posso cioè su un cd abbiamo registrato qualcosa su alcune per esempio di un contatore della luce che è un qualcosa di assolutamente complicato incontro insieme per il 90% delle persone immagini che questa l'ho fatta nella romagna del politegno di Torino con un convento perché poi bisogna creargli il pathos che poi la portano all'eccitazione come dicevo prima ecco si immagini con la musica con la musica di Giorgio Ricalzi e con le letture di Elena Canone c'è un'attrice e un jazzista della scuola di Paolo Fesu che hanno che hanno commentato perché bisogna portare questa conoscenza in maniera in maniera diretta e in maniera empatica con il pubblico l'Anne Espresso la macchina non esattamente l'Anne Espresso ma la macchina della Lavazza l'ho fatta due volte due volte poi mi hanno fatto girare un po' le scatole perché ho detto una volta l'ho fatta alla Cavallerizia a Torino in teatro della Cavallerizia a Torino questo un anno e mezzo fa e ho detto alla Lavazza posso dirlo senza cattiveria di confronti nessuno e gli ho detto ma almeno mi offrite un pacchetto di caffè niente mi hanno dato un cadavere veramente cadavere però adesso non voglio anticiparlo perché semmai la la macchina da caffè dovrei ripeterla se non vado errato nei prossimi mesi al teatro anatomico dove mi resta l'Italia però me l'ha chiesto un mio codice però non è difficile se voi mi trovate l'unica cosa che io chiedo al a chi mi invita di trovarmi i cadaveri perché andare in giro a cercare anche i cadaveri l'ho anche fatto ma non è poi così non è così così semplice quando le ho fatte sì ma quando le ho fatte per noi le ho fatte anche all'estero anche in Canada anche in Svezia e negli Stati Uniti quindi e lì mi ricordo una volta che ho fatto autopsia di un aspirapolvere all'Olio College di Northampton in Massachusetts in un college che dai tempi degli anni 70 era il college Regno del Femminismo Regno del Femminismo per cui c'era un corpo docente solo di donne corpo a dire solo di donne e tutto e lì ho trovato invece delle ragazze stupende che mi hanno fatto da assistente alla mattina siamo andati mi sembrava un po' il gallo nel pollaio ma fa lo stesso siamo andati in un dump in una specie di centro ecologico di raccolta ecologica differenziata abbiamo trovato il cadavere della Spino l'abbiamo aperto abbiamo cercato di raccontare le storie immaginate che poi per problemi di igiene anche per quei negli Stati Uniti soprattutto sugli scossi sono molto attenti molto molto puritani in questo guanti mascherine ziploc per mettere le cose e prendendo con le pinze ovviamente essendo veramente un cadavere di Aspirepolver quando l'ho aperta dentro c'era di tutto perché non avevano svuotato ovviamente andandolo a buttare quello che c'era e lì dentro abbiamo cercato di raccontare le storie di quello che era rimasto lì dentro perché quella è stata la cosa più importante di tutto il resto voi non ci credere e qui svedo l'ultimo colpo di scena quando finisco la mia autopsia dico cari signori voi avete partecipato a questo evento adesso se volete come capita in tutti i veri riti potete prendervi una reliquia del cadavere e portarvela a casa vi garantisco che non è mai successo che siano rimasti dei pezzi sul tavolo sempre e allora dato che le abbiamo messi queste booster ziploc quelle che si chiudono con la zip sopra si sono questi ragazzi di questo code ci sono dato che l'ho fatto anche poi la schedina polvere da tappeto eccetera eccetera oppure residuo residuo di colazione residuo di colazione eccetera eccetera si sono portati via anche le buste contenenti in pattume perché erano state sublimate in una dimensione diciamo così dire liquida necrofia tecnologica necrofia tecnologica vi racconto questo due anni fa proprio alla fine Roma nel 2012 mi pare città dell'impatto della musica sala Petrassi faccio l'autopsia all'inizio della festival della scienza l'autopsia di un giradischio perché poi ovviamente ne vediamo ripetere ogni quotidiana voglio cambiare anche le scene ho fatto dal teatro come dico alla scuola elementare qui non ho niente da aprire ne voglio aprirlo adesso perché sennò scappare e lì aprivo un facevo l'autopsia di un giradischio di un giradischio di quelli abbracciati immagina avevo di fronte a me un migliaio di persone ed ero da solo sul palcoscenico quindi è stata una cosa abbastanza coinvolgente abbastanza pesante riesco per fortuna a finire dopo aver dovuto usare la sega per tagliare la cassa però non riuscivo ad aprire con una fotografia che ha girato anche qui su Repubblica di Roma e poi alla fine metto tutti i pezzi sul palcoscenico e invito il pubblico che ovviamente si scatena e fa scomparire tutto pile esauste e già un pochino con quella bagnetta schifosa che fanno comprese anche loro hanno messo dentro la busta ma anche quelle sono scomparsi è una cosa impensabile alla fine c'era ancora l'assessore Borgna c'erano tutti gli altri c'era Telecom che sponsorizzava la manifestazione arriva un signore di 60 anni sappiamo che non ci sia qua non li conoscerai che viene lì e mi dice sono veramente contento dico mi fa piacere sa io sono una direcente di terra e sono veramente contento ma lì non sa perché e dico non lo so perché mi dica perché è contento e così non dico che mi ha detto la faccia finita però è abbastanza stante lui mi fa così e dice ah la faccia sono riuscito a prendere il braccetto del gilandese fa così lo nasconde e va via guardate io mi sono trattenuto da ridere ma gli avrei non so cosa detto sembrava un ragazzino di 12 anni era riuscito a prendere il braccetto del gilandese ecco in queste cose qua quindi ce la chiamiamo infatti io non lo capisco perché è una cosa bene o male io capisco come funzionano i gilandisti si si ma vedrà vedrà se lei invece dell'Anespresso che mi penso se l'avessi saputo non lo riperava no non lo riperava ma se invece una bialetti che è in sé una un piacere maggiore fatto al tuo canale perché uno prende la mano riesce a fare gritto per aprirla e chiuderla si capisce che l'acqua ponde passa attraverso i caffesi e la schiumetta io mi agito di più va bene allora farò in modo da avere anche la versione la versione eccitata non so se qui avete il libro sempre di 150 anni di invenzioni italiane di codice ce l'avete o no ce l'avete quello che è uscito due anni fa prima di questo c'era un io due brevetti li ho fatti da voi però non hanno servito a niente però peccato peccato mi dispiace invece 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 prima di arrivare alla morte si dice che questa voce si dice che quelli indiani siano o meno assistenti o addirittura programmati per un paziente c'è qualcosa di vero ma allora qualcosa di vero c'è qualcosa di vero c'è soprattutto ci sono adesso facciamo un salto indietro ci sono alcuni mezzi di trasporto per esempio tanto per fare un esempio la tata indiana la vespa impotata indiana è fatta in modo che non possa essere riparta ci sono mezzi che costano molto poco e ai quali non si vuole dare assistenza per il vero costo di un di un sistema post vendita è quello di mettere a punto tutto il lambaradà dei uffici negozi di riparazione con i magazzini dei pezzi di ricambio eccetera eccetera allora per quello in quel caso lì lo so per certo ma anche in tanti altri casi si sono usati dei particolari e delle particolari viti che una volta che sono serrate se uno cerca di aprirle si rompono e si spezzano e a questo punto il gioco che l'oggetto però questo è il massimo della progettazione il massimo della progettazione è far sì che un oggetto abbia ugual vita in tutte le sue parti e non soltanto in una parte cioè l'ideale adesso non voglio che ci sia qualcuno che comincia a toccare a muletti e altre cose magari che trova l'ideale anche per non essere vivente è di rimanere sano fino a 99 anni e poi a 99 anni cominciare a perdere la vista a perdere le articolazioni a perdere tutto e andare avanti perché non ha molto senso continuare ad avere un cervello perfetto ed essere bloccato immobilizzato dentro un letto riempito di tubi tubicini eccetera eccetera quindi anche nella progettazione nella progettazione più avanzata l'ideale è proprio quella a parte dei pezzi che si possono sostituire facilmente penso alle guermizioni della cafetiera bialetti che quando uno la dimentica più poco deve andare a cambiare però ci sono parti che devono mantenersi fino a un certo punto andatevi capire da un altro giorno in casa una pentola a pressione di 30 anni sempre funzionata bene la levetta che tiene sulla valvola di apertura mi si rompe voi non ci crederete io sono andato in un negozio ho chiesto il costo di quella valvola non solo del bracetto perché non c'era il bracetto la valvola col bracetto costa esattamente come una nuova pentola a pressione e a questo punto io ho detto bene basta prendo la pentola a pressione la uso come pentola per la porta asciutta ecco perché l'ho fatto mandare nel riciclo dei metalli e tutto va avanti ecco questo è il vero problema non ha molto senso quindi in realtà è una cosa intelligente far sì che un oggetto è chiaro che se poi c'è la garanzia soprattutto quelle case mobilistiche ma non solo case mobilistiche mi danno una garanzia di 5 anni è fatto in modo perché voi entro i 5 anni avete la quasi certezza che se si rompe qualcosa tutto vi viene riparato e poi dopo se hanno fatto bene i conti comincia a perdere colpi su tutti i fronti perché questo vuole purtroppo la società dei consumi la società dei consumi non vuole più avere il martello non vuole più